Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Riti. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando dello stadio Simonetta Lamberti e dei lavori di adeguamento che dovranno essere eseguiti. Nel frattempo continuano le polemiche anche politiche. La questione stadio resta al centro del dibattito cittadino. Non si placano le polemiche anche politiche per l'indisponibilità del Simonetta Lamberti a causa delle torri faro non conformi alle nuove normative e che sta costringendo la Cavese a giocare le partite casalinghe in esilio in quel di Castellammare di Stabbia. Nel frattempo però da Palazzo di Città sembrano arrivare buone notizie che fanno ben sperare i tifosi che auspicano di tornare in tempi brevi a calcare le gradinate dell'impianto di Corso Mazzini. Infatti dopo la pubblicazione del bando in queste ore saranno assegnati lavori straordinari che interesseranno lo stadio comunale a integrazione delle opere già previste nel progetto degli interventi infrastrutturali per un importo complessivo di 400.000 euro. Gli interventi interesseranno i settori curva nord, curva sud, distinti, tribune laterale e centrale per la messa in sicurezza strutturale ed antisismica, impermeabilizzazione, nuovi tornelli e nuove uscite d'emergenza. I lavori dovrebbero completarsi entro 90 giorni. I fondi necessari alle opere sono stati recuperati dalla devoluzione del mutuo acciso per la messa in sicurezza della discarica di Cannetillo. La Regione infatti ha finanziato l'intervento nell'ex discarica e quindi l'amministrazione Servalli ha potuto dirottare quota parte del mutuo sui lavori allo stadio. Per quanto riguarda invece il ben più complesso intervento di realizzazione di nuovi torri faro da posizionare sul prolungamento della diagonale del rettangolo di gioco che permette una corretta distribuzione del flusso luminoso in tutte e quattro le direzioni verticali sembra mancare soltanto la comunicazione ufficiale per il via libera dal credito sportivo all'erogazione di un mutuo di 1.183.000 euro. Dal canto suo il sindaco Servalli continua a puntare l'indice contro i vertici della Lega Pro. Io ribadisco che a mio avviso l'atteggiamento della Lega nei confronti della Cavese e del Comune di Cava dei Terreni è stato molto pesante perché se noi avessimo avuto problemi di carattere statico, se avessimo avuto problemi di carattere strutturale e di sicurezza aveva ben don della Lega a dire non dovete giocare ma noi tutti questi problemi li abbiamo affrontati già e superati. Abbiamo fatto, vedi il paradosso, le universiadi che è uno dei più grandi eventi mondiali e non possiamo fare la Serie C perché la Lega ci dice che dobbiamo spostare le loro rifatte. Allora questa è la regola, noi la stiamo rispettando ma ci vuole un tempo tecnico per la realizzazione di questo intervento perché noi siamo una pubblica amministrazione dobbiamo seguire delle regole, non c'è niente da fare e quindi io spero, spero con tutto il cuore che la Lega abbia un ripensamento e nel momento in cui noi andremo lì con il progetto esecutivo magari con la gara indetta, con il mutuo del credito sportivo, quindi voglio dire non è sulla parola ma sui fatti concreti, spero che la Lega abbia un momento di riflessione e di apertura perché ripeto, questo atteggiamento è veramente molto molto penalizzante. A pensarla diversamente è il leader di Cava Civile, Enrico Bastolla, il quale attacca l'amministrazione Servalli, lei ha a suo avviso di aver sottovalutato la problematica. La questione stadio mi sembra una faccenda un pochino surreale, io penso che la verità fino in fondo nessuno la sa, sia degli addetti ai lavori, sia da parte dei tifosi, sia da parte della società cavese. Non riesco a capire perché questo grave ritardo, la normativa sulle torri faro, che io sappia, è fine 2017, è una normativa UEFA, sì in quell'anno forse la cavese faceva la serie D, non aveva questa prescrizione delle torri faro, però la normativa è già da due anni, quindi non riesco a capire quando il sindaco dice che la Lega ci ha imposto di fare questi lavori da marzo, io non penso che marzo 2019 sia la data da indicare, penso che sia una data molto antecedente a marzo 2019, ho dei documenti che attestano questo, quindi c'è stata secondo me una scarsa attenzione, ma la scarsa attenzione anche da parte un poco di tutti, c'è stata una superficialità nell'affrontare il problema e noi non abbiamo avuto una spiegazione in questo senso in merito ai fondi dati per le università, quindi c'è qualcosa che non quadra al 100%, la verità non si conosce, sta di fatto che oggi la cavese gioca fuori dalle muri amiche. È sempre a Cava di Tirreni per l'adeguamento dei servizi al nuovo software gestionale, da lunedì 16 a giovedì 19 settembre gli uffici di Via della Repubblica del servizio anagrafe, stato civile, assegni per minori e carte d'identità resteranno chiusi al pubblico, saranno garantiti i servizi di Stato Civile per le denunce di nascita e morte, per il rilascio della carta d'identità informata o cartaceo, solo nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno. E si torna tra i banchi di scuola, domani per la gran parte degli istituti salernitani suona la prima campanella, il Comune di Salerno prova a farsi trovare pronto. Domani si torna tra i banchi di scuola, domani per la gran parte degli istituti pubblici cittadini suona la prima campanella e gli studenti, zaino in spalla, saranno nelle aule. Il Comune di Salerno prova a farsi trovare pronto, ne abbiamo parlato con il Vice Sindaco e Assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa. Previsto un piano traffico e sicurezza, confermati i nonni ausiliari, monitorate le eventuali criticità strutturali degli edifici. Il servizio Mensa partirà dai primi di ottobre. Gli auguri della Avossa. Buona scuola a tutti, innanzitutto ai bambini, innanzitutto a tutti coloro che per la prima volta entrano a scuola, immagino l'ansia, la preoccupazione, l'emozione grande che c'è. Ovviamente assicuriamo la massima attenzione a questo settore così importante della vita comunitaria. Per quanto riguarda la situazione, io sono abbastanza tranquilla, posso rassicurare tutti che, almeno per quanto riguarda le scuole di nostra competenza, ossia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, non ci sono delle criticità. Abbiamo seguito fino all'ultimo e stiamo ancora seguendo in verità. In questo momento gli uffici sono impegnati, per esempio, per quanto riguarda le cedole librarie, ma insomma tutto si sta procedendo nella più grande normalità. E ci spostiamo a Battipaglia dove dopo la lunga giornata di domenica per il disinnesco dell'ordigno bellico torna alla normalità la vita quotidiana dei cittadini battipagliesi. Un veloce ritorno alla normalità per Battipaglia e per i battipagliesi. La domenica diversa, vissuta dagli evacuati più per la paura di eventuali furti nelle proprie case che per l'effetto di una deflagrazione dell'ordigno bellico disinnescato dagli artificieri del ventunesimo reggimento, il genio guastatore di Caserta, è già alle spalle. Battipaglia riprende il suo ritmo con la riapertura dell'ospedale, il Santa Maria della Speranza, nuovamente fruibile per i pazienti e con il ritorno in corsie nei reparti dei degenti con le scuole che apriranno regolarmente domani, mentre per i tre plessi Ferrari, Penna e Caduti di Velella, che hanno ospitato i centri di accoglienza, il suono della prima campanella è differito a giovedì mattina 12 settembre. Battipaglia ricorderà l'8 settembre per sempre, con la max evacuazione di 36.000 residenti del mattino, le ore trascorse ad attendere il via libera per far rientro nelle abitazioni, le ripercussioni sul traffico con i chilometri di coda deboli, disagi figli del blocco temporaneo sul tratto della 2 tra Ponte Gagnano e Deboli, con in tilt anche il passaggio ferroviario. Dopo mesi di preparazione tutto è andato liscio sul fronte della sicurezza e soprattutto per l'operato, in loco degli artificieri, per gli oltre mille tra forze dell'ordine e volontari che hanno fatto seguire alla lettera il piano d'evacuazione e di intervento stabilito dalla Prefettura. E sempre a Battipaglia, dopo la bomba del secondo conflitto bellico, i comitati ambientalisti puntano l'attenzione su quella che ritengono una vera e propria bomba ecologica. Battipaglia, la vera bomba è quella ecologica. Un tam-tam mediatico, partito tra comitati ed associazioni ambientaliste nelle ore dell'evacuazione per il disinnesco dell'ordine obellico per porre all'attenzione generale la questione delle problematiche sull'ambiente vissute nella città della Piana del Sele tra rifiuti, roghi e miasmi. E a spiegare il senso del lancio e della condivisione del post su Larga Scala e Lidia D'Angelo, attivista del comitato Battipaglia dice no, che su Facebook scrive «In queste ore c'è a Battipaglia un imponente dispiegamento di uomini e mezzi per il disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. È stata messa in piedi una organizzazione perfetta, tutto sta procedendo secondo programma. Ed anche il nostro primo cittadino sta seguendo in prima persona ed aggiorna costantemente i cittadini. Che dire, comportamento ineccepibile. È esattamente quello che ci aspettiamo da un sindaco quando chiediamo interesse costante e continuo ed aggiornamento della cittadinanza sulle problematiche ambientali. E sul fronte della piaga dei miasmi si registra l'unione di intenti tra due consiglieri comunali di minoranza a Battipaglia e Ponte Cagnano, ovvero Alfonso Baldi ed Angelo Mazza, che scrivono al riconfermato ministro dell'Ambiente Sergio Costa giunto nella Piana del Sele lo scorso 24 agosto. Chiediamo, scrivono, che vengano messe in atto una serie di attività tese al rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione dell'immagine del nostro territorio, attuazione di piani di trasformazione delle nostre aziende in processi green mediante una politica di incentivi fiscali e finanziari, misure compensative per la trasformazione urbana che tenda alla sostenibilità ambientale. Sarà aperta al pubblico fino al prossimo 15 settembre presso il complesso monumentale di San Giovanni la mostra di ricordi realizzate in occasione dei 50 anni di attività del gruppo degli archibuggeri Santissimo Sacramento di Cava dei Tirreni. 50 anni di attività, di storia ed identità del gruppo degli archibuggeri Santissimo Sacramento di Cava dei Tirreni. 50 anni di ricordi in mostra da venerdì scorso fino al 15 settembre presso gli splendidi saloni del complesso monumentale di San Giovanni. Un percorso itinerante costituito da foto, costumi dell'epoca e cimeli che catapultano i visitatori nel più intenso patrimonio folcloristico della città metelliana. Abbiamo messo in mostra in questa struttura, messa a disposizione dell'amministrazione comunale nel complesso di San Giovanni, la sala mostre i 50 anni di attività del gruppo ovvero qui possiamo vedere dei cimeli, divise, foto parte del materiale che praticamente abbiamo nei nostri archivi, nei nostri depositi, nella nostra sede anche perché dovrei esplorlo tutto sarebbe stata veramente un'impresa al di fuori di ogni concezione logica. Detto questo, qui abbiamo messo in esposizione i materiali che più ci rappresentano o che ci hanno rappresentato durante tutti i 50 anni di attività. Tanti sono stati gli appassionati a corsi all'apertura della mostra che sarà visitabile ogni giorno dalle ore 18 e 30 fino alle ore 22. Presenti alla cerimonia inaugurale, oltre all'amministrazione comunale, anche Don Michele Petruzzelli abbate dell'abbadia di Cava dei Tirreni a testimonianza del legame che unisce il sodalizio all'abbazia benedettina. Io benedico questa bella mostra che abbiamo visitato, questa iniziativa a sottolineare appunto la storia di questa associazione e ho molta stima di tutti gli appartenimenti a questa associazione c'è questo legame particolare anche con l'abbadia e spero che si vada sempre avanti in questo legame di amicizia e anche proprio a livello culturale e quindi benedico questa bella mostra. Un momento importante, 50 anni, devo dire, di grandi successi di un comportamento rigoroso e serio da parte di questo gruppo di grande amore nei confronti della città nei confronti della cultura di questa città del folklore che attraverso questi gruppi si esprime un'attenzione all'abito, allo stile, ai colori insomma un gruppo veramente molto molto importante del nostro straordinario patrimonio folcloristico a Cava dei Tirreni e quindi 50 anni che debbono essere veramente un primo pezzo di storia e io auguro a questo gruppo veramente una lunga storia gloriosa come sono stati i 50 anni che abbiamo alle nostre spalle. Un viaggio negli attimi più belli della storia degli archibuggieri rivissuto anche negli occhi dei familiari del compianto Luca Barba fondatore del gruppo e del primo presidente Armando Gallo. Sono ritornato indietro di 50 anni ti lascio vedere la situazione non so nemmeno come esprimermi perché dopo 50 anni vedere tutto quello che è stato fatto e che si continua a fare e credo che è rimasto qualche ricordo di qualche cosa io l'augurio che io rivolga a questa associazione sempre di migliorare e mai di peggiorare di essere sempre uniti e volersi bene innanzitutto e poi tutto quello che si fa è sempre per Cava dei Tirreni e non è una cosa personale. Auguro a tutti voi tutto il bene del mondo perché veramente meritate per questa passione e questa tenacia che avete. Ed è in programma a Minori in Costiera Amalfitana sabato 14 settembre lo spettacolo dal vivo dell'attore Neri Marco Re Dopo il successo del Gusta Minori a tema natalizio ottenutosi alla fine dello scorso mese l'attore marchigiano Neri Marco Re classe 66 si appresta a concludere la ricca serie di eventi estivi della città del gusto artista più volte candidato al David di Donatello e vincitore del Nastro d'Argento come miglior attore e protagonista per Il Cuore Altrove di Pupi Avati è apprezzato dal grande pubblico per innumerevoli partecipazioni a fiction e programmi tv oltre che per le sue imitazioni su tutte quella di Maurizio Gasparri e Alberto Angela. Sabato 14 settembre alle ore 21 Marco Re sarà invece a Minori per uno spettacolo dal titolo Le mie canzoni altrui dove presso la villa romana si esibirà nelle vesti di interprete Canoro. Ed ora Sport Calcio domenica prossima la Cavese andrà nella Tana del Teramo partita già delicatissima per i metelliani e soprattutto per l'allenatore Moriero si saprà domani se la sede sarà Teramo o Pescara. Dopo la sconfitta già subita a Reggio Calabria la Cavese era attesa a un miglioramento e invece l'altro ieri a Castellammare con la Vibonese ha offerto una prestazione piatta sotto il punto di vista del gioco con pochissime idee e con due sole conclusioni di una certa pericolosità compresa quella che ha determinato il gol di Di Roberto. Di positivo in pratica c'è stato solo il risultato che non è stato una sconfitta ma un pareggio per uno a uno. Santoriello, il presidente degli Aquilotti parlando ai giornalisti ha fatto capire di essere preoccupato così come preoccupati sono anche i tifosi della Cavese. Tutti sono in discussione nel clan metelliano e tutti dovranno essere pungolati e stimolati a fare meglio di quanto hanno fatto. Squadra che tatticamente non c'è stata sotto il punto di vista del collettivo non è ancora al massimo e mister Francesco Moriero in sala stampa ha attribuito il fatto alla mancanza di amichevoli nel precampionato. In pratica non c'era stata prima la possibilità per il tecnico leccese di rendersi conto del livello di apprendimento degli schemi da parte della squadra e neanche di capire quali fossero gli eventuali problemi. Però è altrettanto vero che il campionato ha avuto inizio solo due settimane e mezza fa e che c'è tempo per correggere quello che ancora non funziona. Intanto il club ieri mattina ha fatto sapere di aver fatto sottoscrivere al portiere Luca Bisogno il suo primo contratto da professionista che avrà validità triennale. Bisogno, classe 2000 è stato uno dei migliori in campo domenica con almeno quattro parate sicure che hanno impedito in quelle occasioni alla Vibonese di segnare. Domenica c'è Teramo-Cavese una partita che si giocherà in terra abruzzese per la quarta giornata del campionato di Serie C e che appare già delicata per i metelliani e per l'allenatore Moriero. Domani c'è un sopralluogo da parte del laboratorio incaricato dalla FIFA sul manto erboso sintetico dello stadio di Piano D'Accio e se ci sarà l'approvazione si potrà giocare a Teramo. Nel caso non dovesse esserci ancora l'approvazione si giocherebbe allo stadio adriatico di Pescara che è un campo in erba naturale. Intanto per oggi il primo allenamento la Cavese lo aveva programmato al Simonetta Lamberti anche perché il tipo di terreno di gioco ha le stesse proprietà di quello che c'è a Pescara. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono tra l'altro che la Cavese starebbe per ingaggiare il classe 95 Danilo Bulevardi un mediano di spinta validissimo un cagnaccio che è molto abile a recuperare palloni e a gestirli. Su Bulevardi però c'è anche la pergolettese seguiranno sviluppi. Al 13 l'Avellino che ha messo in cascina sei punti dopo le vittorie su Vibonese e Teramo ha preso ufficialmente l'attaccante Gabrielle Champantier classe 99 che arriva in prestito da una formazione della Lettonia però c'è una fase di stallo nella trattativa per la cessione della società da De Cesare all'accordata rappresentata da Luigi Itzo l'offerta di quest'ultimo non convincerebbe l'attuale proprietà in carica. Domenica l'Avellino giocherà a Potenza con la Zeta Picerno. La Paganese ha pareggiato a Lentini con la Sicula Leonzio esprimendo soprattutto carattere ma il fatto che il 2-2 di Sicurella su calcio di rigore sia arrivato proprio nei minuti finali testimonia il fatto che gli azzurro stellati non sono ancora molto abili nel mantenere i risultati. Però quando anche i nuovi acquisti tipo Caliu al quale sono stati concessi 20 minuti entreranno più in condizione le cose potrebbero davvero migliorare. Bene comunque Panariello il difensore in gol in Sicilia per il momentaneo 1-1 la formazione di Mr. Erra con tre partite a quattro punti e domenica affronterà la Virtus Francavilla allo stadio Torre. E in casa Salernitana comincia la spreparazione in vista del derby con il Benevento. I Granata allenati da Ventura che sono a punteggio pieno giocheranno contro gli stregoni lunedì sera alle 20.45. In una stagione in cui si è cominciato col piede giusto e con l'evidente intenzione di tagliare i ponti con il passato la Salernitana ha subito un'occasione importante. Il derby con il Benevento può essere non solo un banco di prova per la classifica ma anche una preziosa opportunità per riscattare i due K.O. dello scorso anno e per ripristinare una tradizione positiva. Alla Rechi il Benevento aveva sempre perso fino allo scorso febbraio quando l'allora squadra di Bucchi passò di misura grazie all'incredibile autogol di Micai un infortunio vero e proprio quello del portiere Granata autore di un bagger pallavolistico che fece terminare il pallone nella rete e rimasta incustodita tra lo stupore generale. Quel derby avrebbe dovuto segnare il riscatto dopo il poker incastato all'andata nella sera di San Matteo ed invece riservò una delusione ancora maggiore ai tifosi Granata. Micai, Di Tacchio, Lopez, Calaio, Iallo, Vogger, l'infortunato Akpà, Migliorini sono alcuni dei superstiti della scorsa stagione e di sicuro avranno motivazioni personali forti che Gian Piero Ventura potrà sfruttare come punto di partenza per dare al gruppo un obiettivo da centrare nell'immediato. Negli ultimi anni i derby disputati all'Arechi con il Benevento avevano regalato sempre emozioni e sorrisi ai tifosi di Granata fino a quello dello scorso febbraio che ha spezzato il tabù per i sanniti e che in casa Granata ci si augura sia stato solo un incidente di percorso una parentesi negativa da cancellare subito. Ventura da domani tornerà a lavorare sul campo con un gruppo che ritroverà anche i nazionali ma nel quale ci sono ancora defezioni e dubbi legati alle condizioni fisiche di qualche elemento. Il tempo delle scelte si avvicina e pertanto il trainer genovese comincerà a provare le soluzioni che potrebbero tornare utili per la gara di lunedì. Oggere e Lopez sono in preallarme il primo potrebbe spuntarla su Maisto per rimpiazzare a capa in mediana mentre il secondo dovrebbe giocare a sinistra qualora si decidesse di non rischiare chine. in avanti ci sono buone speranze per Giannetti. Ed ancora sport gli ultraciclisti cavesi Michele Petrone e Sergio Punzi si sono resi protagonisti di un'altra straordinaria impresa completando il cammino di Santiago di Compostela a bordo delle loro bici. Il fantastico 2019 di Michele Petrone e Sergio Punzi si è arricchito nei giorni scorsi di un'altra straordinaria impresa. Gli ultraciclisti cavesi dopo aver completato nel mese di marzo l'Everesting percorrendo 30 volte la salita che collega Salerno alla frazione Metelliana Croce e toccato la vetta nord del Gran Sasso a maggio infatti si sono cimentati con successo nel cammino di Santiago. Partendo il 24 agosto dalla francese San Joan Piedeport attraverso i Pirenei sono giunti in Spagna e timbrando ad ogni tappa dell'itinerario il passaporto del pellegrino hanno raggiunto nella serata del 29 la cattedrale di Santiago di Compostela dopodiché nella giornata successiva si sono spinti fino a Finsterra spettacolare località della Galizia che affaccia sull'Atlantico per raccogliere la tradizionale conchiglia fare un tuffo nell'oceano e scattare una foto in prossimità del cippo del chilometro zero complessivamente gli atleti hanno percorso 885 chilometri per un totale di oltre 12.600 metri di dislivello positivo Quando arrivi a Santiago tu senti proprio l'energia positiva di tutta la gente che è per strada e che sa che capisce che sei arrivato dal cammino di Santiago per cui ti incita a goderti il tuo arrivo e quando arrivi nella piazza vedi che ci sono già tanti che sono arrivati prima di te che sono lì distesi per terra sul loro zaino e guardano la facciata della cattedrale ma in realtà stanno guardando dentro se stessi per auto celebrarsi e prendere atto di avercela fatta dopodiché se ce la fai se hai ancora qualche energia puoi percorrere il percorso residuo quindi da Santiago di Compostela altri 100 chilometri 90 in realtà è qualche migliaio di metri di dislivello positivo per arrivare quindi alla fine della Galizia con l'oceano il faro di Finisterra e la colonnina con il chilometro zero è stata un'esperienza immagino davvero impegnativa sì molto perché a parte insomma la fatica in bicicletta che si fa e non conoscendo il percorso quindi tenevamo la cartina dell'altimetria però una cosa è vedere sulla carta è una cosa stare poi in bici e pedalare e poi il fatto che non riposi al 100% per riprendere il giorno dopo di nuovo la bici sulla sella e stare tante ore quindi noi che più o meno ci siamo allenati anche fisicamente mi riferisco alla parte bassa sul sellino quindi poi se metti insieme tutte queste cose diventa uno sforzo notevole però poi ti ripaghi di tutto quello viene ripagato dai paesaggi da quello che si respira durante il percorso il cammino quindi diciamo diventa una fatica ma non fatica ecco prima di tornare in patria Petrone e Punzi non hanno chiaramente trascurato di ritirare la compostela certificazione in latino consegnata ai pellegrini che attestino di aver percorso almeno 100 km a piedi o a cavallo o 200 km in bicicletta e questa era la nostra ultima notizia l'informazione di RTC Quarta Rete torna più tardi buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.